le scarpette di natale era la notte che precede la vigilia di natale un calzolaio lavorava nella piccola stanza dove viveva con la moglie doveva in tutti i modi finire un paio di scarpette per il figlio di un ricco signore della città la mattina sarebbe andato a consegnarle ricavando un buon guadagno hai pensato cosa potremmo comprare col guadagno di queste scarpine chiese alla moglie sono troppo piccole e potremmo ricavarne soltanto pochi soldi se invece fossero state un bel paio di stivali il calzolaio scosse la testa hai ragione ma bisogna accontentarsi meglio pochi soldi che nulla le scarpine erano finite il calzolaio le tolse dalla forma e le guardò da vicino guarda come sono graziose disse tutto contento alla moglie e senti come sono leggere e come devono tenere caldo io ci ho messo dentro uno strato di pelliccia sono veramente un capolavoro con quello che mi daranno queste scarpine cosa comprerai per il nostro pranzo di natale la donna fece un rapido conto poi disse un cappone certo rise il calzolaio senza cappone non sembrerebbe nemmeno natale e prima del cappone ci vogliono due fette di prosciutto sicuro come antipasto va bene il prosciutto e poi poi una fetta di dolce altrimenti che natale sarebbe e per bere una bottiglia di vino buono di quello sfumante in quel momento il calzolaio e sua moglie udirono un piccolo rumore alla porta come se qualcuno avesse bussato chi può essere a quest'ora forse qualcuno che viene per le scarpine disse la donna impossibile eravamo d'accordo che gliela avrei portata io domani mattina allora sarà stato il vento ma ecco di nuovo il rumore e questa volta più forte a questo punto la donna andò ad aprire e fece un'esclamazione di meraviglia davanti a lei c'era un bambino dai grandi occhi che guardava senza dir niente aveva i capelli biondi scompigliati dal vento e coperti da un leggero nevischio entra bambino disse la donna chiudendo in fretta la porta il bambino fece un timido sorriso con le labbra livide per il freddo ma sei scalzo esclamò il calzolaio che per abitudine guardava subito le scarpe delle persone il bambino non disse niente guarda le scarpine che l'uomo teneva in mano ma senza invidia come se le accarezzasse con gli occhi il calzolaio guardò la moglie la moglie guardò anche lei i piedini nudi del bambino poi le scarpine fece un cenno d'intesa al marito con la testa e con gli occhi il calzolaio prese allora le scarpine e disse prendile sono due senti come sono calde e la donna aiutò il bambino a infilarsele dopo avergli riscaldato i piedi con le mani grazie disse il bambino a bassa voce sono le prime scarpe che porto ora devo andare buonanotte il calzolaio la moglie non ebbero nemmeno il tempo di augurare anche loro la buonanotte la porta si richiuse e il bambino scomparve nel buio una buona decisione disse il calzolaio ma adesso bisognerà rifare tutti i nostri conti aggiunse scherzando niente cappone niente prosciutto niente dolce e niente spumante concluse la donna del resto a me lo spumante non piace mi va su per il naso e io non digerisco il cappone avevo detto di farlo perché si usa così a natale e poi il dolce non siamo più dei bambini cara mia abbiamo noci e pane e un po del solito finello è più che sufficiente cara passeremo lo stesso un bel natale forse il più bello della nostra vita sì perché penseremo a quel bambino che ora non è più scalzo disse la donna il calzolaio e la moglie andarono a letto ma la mattina quando si svegliarono trovarono sulla seggiola un cappone intero coperto di fette di prosciutto e circondato di mandorle sbucciate e di zibibbo sarà anche un dolce che pareva uscito allora allora dal forno del panettiere è una bottiglia che era sicuramente di vino spumante perché aveva il collo avvolto dalla stagnola argentata allora capirono chi era il bambino al quale avevano regalato le scarpine nuove e caddero in ginocchio commossi autore sconosciuto